Ciao a tutti amici TecnoAndroid, oggi andremo a scoprire un'app che sicuramente non arricchirà nessuno però consente di guadagnare qualche buono per Amazon, per il Google Play Store, per iTunes se qualcuno lo utilizza L'applicativo si chiama Waf con l'H e con la W per cortesia e praticamente una volta avviato sarà sufficiente fare l'iscrizione tramite Facebook di solito il codice promozionale, comunque il codice invito non è obbligatorio però a me l'ha chiesto obbligatoriamente non so per quale motivo, ad ogni modo c'è il mio, quello che ho utilizzato io sotto se volete usarlo anche voi vi darà anche 30 centesimi di bonus iniziale e dopodiché praticamente basterà scaricare o fare delle cose con alcuni applicativi suggeriti per ricevere dei bonus L'applicazione ha un'interfaccia grafica molto semplice, c'è Premium Pix che praticamente sono le app principali che vi permettono di guadagnare, adesso c'è Piano Olic che con l'installazione vi garantisce 5 centesimi se la utilizzate per 4 minuti 2 centesimi e per ogni 4 minuti altri 2 centesimi poi un centesimo al giorno se non viene disinstallata l'applicazione, la stessa cosa con gli altri applicativi che vedete qui man mano che io scorro, attenzione alle pubblicità, in alto a destra c'è scritto AdChoice quelle chiaramente sono pubblicità poi dopodiché c'è Wafpix che invece sono altri applicativi che vi consentono di guadagnare facendo degli acquisti in app, per esempio con Jungle Elite se installate il gioco e fate un acquisto in app di 1 dollaro guadagnate 4 dollari e 20 e così via poi c'è Io Survey, Completed Survey with Validation Information vi danno 70 centesimi di dollaro eccetera eccetera poi qui c'è una schermata generale che vi fa vedere praticamente oggi in generale quanto è stato guadagnato tramite Waf, quanti premi sono stati dati non ho ben capito se sia in dollari o in punteggi, questo non mi è chiaro questo contatore poi c'è User Stream, qui sono persone che utilizzano, si sono appena loggate sull'applicativo dall'altra parte invece c'è Invite Friends, Get a bonus of 30 cents quindi invitando degli amici a vedere la possibilità come vi dicevo prima di avere 30 centesimi di bonus vi ripeto, io vi lascio il mio codice, non so per quale motivo, in genere non è obbligatorio se quando andate a fare l'iscrizione ve lo richiede per forza potete inserire il mio o qualsiasi codice verrà inserito dagli altri utenti nei commenti anche solo per poter socializzare, se non ve lo richiede è tanto di guadagnato comunque per ogni iscrizione 30 centesimi a voi e 30 centesimi a chi in teoria vi ha presentato l'iscrizione io l'ho fatta tramite Facebook, non ricordo ma mi pare che sia l'unico mezzo per poterla fare in alto a sinistra poi c'è il menu a tendina con tutte le informazioni e anche tramite Reward History potremo vedere innanzitutto i pagamenti che abbiamo ricevuto quali sono oppure, vediamo se mi ricordo, c'è la possibilità anche di andare a vedere quali sono i premi ecco, payout, quello che potete andare a chiedere, potete chiedere un bonus di Paypal un bonus di Minecraft, applicazioni acquist in app di Facebook, Amazon, Google mi pareva ci fosse anche Amazon by VIP, non lo trovo, vabbè c'è soltanto Amazon magari all'interno è la stessa cosa quindi sostanzialmente verrete pagati attraverso dei bonus a raggiungimento della cifra minima per esempio Google per l'Unione Europea sono almeno 22 dollari e un pochino altino iTunes ne bastano 12, Amazon 10 dollari e mezzo e così via chiaramente dicevamo non è un'app per arricchirsi però quanti, almeno io lo faccio passano del tempo al cellulare quando non hanno nulla da fare, tanti quindi potrebbe essere una cosa carina andare magari a, anziché sprecare del tempo sui social network, scaricare, installare, dare un'occhiata anche ad applicativi nuovi perché no, perché alla fine lo scopo di questi sistemi è quello di far conoscere nuove app e intanto guadagnare qualche centesimo che sicuramente anche per gli acquisti spiccioli in app non fa mai male e sicuramente è un metodo più rapido di Google Opinion Rewards bene amici Techlandrovidi, io sono Carla Stea, mi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo tutorial Grazie a tutti